Ma questo non è male, se lo facciamo di un altro colore, tipo blu, no, viola, bene, o rosa, insomma l'orosa, dai. Queste scarpe le scarpe rovini, però dai lo facciamo un po' più elegante, e le mettiamo un paio di scarpe rosa, appunto, come quelle della figlia. Ah, che parto? Tutte queste cose nel vecchio, veramente. Allora, vediamo, da sport, da sport, da su. Mi sembra che io stia dicendo da sport, il che, mi manca parecchio, non abbiamo continuato niente da sport durante questa quarantena, mi piacerebbe ordinare del sushi, ma evitiamo di avere il più contanti possibile da cose esterne, quindi, niente. Per una scelta nostra, cioè, non sto dicendo che voi non dobbiate farlo, assolutamente. Allora, allora. Beh, non sta mica male. Un paio di scarpe un po' sopra, magari. Ok, c'è, per, insomma, per una certa età, no? Beh, queste non stanno male, mi piacere così, adesso c'è un po' di blu che... Non c'entra molto, però vabbè. Ah, mi viene male. Allora. Allora, i pantaloni non le stanno per niente bene, ma perché, per quale motivo? Cioè, sì, che non sono così brutti. Potremmo lasciarla così, mi piace, quindi lasciamo così. E le tontofole, mettiamo così. Sì, dai. Cioè, solo, solo le scarpe sono una festa. Il resto è tutta. Ecco, questo era un chiaro esempio di andare a una festa in quarantena, in tutta. Allora. No, andiamo a sapere tra i vestiti, perché è sempre un po' più facile scendere come vestirle e così. O mi ha detto, seriamente? Perché? Per quale motivo? Io ho questo. No, questo non lo stanno mica male. Però no. Questo qua, invece, se devo cambiare un colore... Ah, mi ricordo quello che mi hanno provato prima. Non mi piace neanche questo di lei. Non lo so, forse è un vestito che mi piace, ma non troppo. Ecco. Se c'è una cosa che non ho mai particolarmente adorato, sono queste maniche, tipo, che sono quasi liberi per salire, ma non salgono. Cioè, non da vedere, ma da avere addosso, perché ne ho avute qualcuna e sono abbastanza irritanti. Per mio gusto personale, ovviamente. Un giorno dovrò qualcosa da metterle in questo, vediamo come lo stanno. Po. Però. Però, però. Potremmo metterle in questo. Quindi lei, poi io... No, queste sarebbero molto bene, ma sicuramente in zero. Quindi sarà il colore, giusto? E l'era non stanno bene, quindi cambiamo. Momenti di silenzio, in questo cerchiamo di ragionare, di trovare qualcosa che stia bene con questo vestito. E' troppo viola, troppo viola, troppo viola. Non lo stanno bene, non lo stanno bene con questo vestito. La smetti da notarti, ti sto vestendo. Non c'è neanche un budget. Eh. Adesso la mettiamo senza scarpe. Tanto neanche se ne accorgerebbe. Oh, questo sarebbe veramente carino. Però, c'è, il colore è sempre un problema. Magari le mettiamo bianche, bianche non stanno bene. Ok, bianche non stanno male. E' un incubo comunque. Via, via. Che dite, mettiamo l'intero anche a lei. Questo non ha... Oh, che carino! Questo non l'ho mai visto, mi piace un sacco. Sul verde non le sta male. Prendiamo anche sull'azienda, mi metterai il verde, però... Dai, lasciamo la piatta. E infine questo, che devo dire, non le sta male, perché le scarpe ho già su questo vestito. Però cambiamo le scarpe. Non so, sicuramente questo qua farà schifo. Andiamo. E questo non ha riflettete. Questi sono abbastanza decenni. E via con le cose decenni. vorrei provare anche qui un look oddio ci sono gli stessi magari a lei potrebbe stare bene qualcosa di questo insomma però magari questo se togliamo il capello che è orribile su di lei dai non è così male lo lascerei anche così non so se posso usare magari altri capelli ma quella era veramente orribile proviamo così va a fare di così schifo non lo so non ho mai usato di più capelli a quanto pare si va a fare di così schifo io mi rifiuto facciamo il senso del capello ma è nello stesso ok per ultimo facciamo di nuovo genetico ma facciamo un gatto un bel gatto quindi tu saresti sempre perché genito è sconosciuto abbiamo fatto femmina però io non farò i maschi visto che sono tutte femmine già facciamo un gatto facciamo tutto gattino non si taglia tutto bene ok va bene così non lo cambio di niente guarda lui è superante è affittoso perfetto va bene così adesso diamo vino allora la chiamiamo vediamo che nome che nome mi potrebbe ispirare allora Sandra tipo però non nome italiano ma nome inglese quindi tipo Sandra una cosa così scriviamo che ha preso il nome il cognome dalla madre quindi anche lei è roll che non si possa dare il cognome anche dalla madre adesso giusto e lei la chiamiamo Mila Mila e questo gattaccio non ha spero gli si possa dare solo il nome senza il cognome lo chiamiamo avrei il solito nome Tom però lo chiamiamo ma sto scherzando lo chiamiamo August ho scritto così spero che me lo lasci ok niente adesso qui è finita comunque la creazione io penso di fermarmi qua e adesso si passa comunque la creazione magari della casa non vorrei metterle in spiaggia però se non uscire non avrebbe senso quindi magari gli faccio una grande piscina dietro non saprei ancora comunque adesso si passa alla costruzione magari quindi salviamo vediamo di cambiare vediamo che foto vengono su oh questa è molto carina però molto spesso non mettono immagini ho staccato un attimo perché dato c'è solo da cliccare qua quindi sto cliccando tramite il compito non mettono mai immagini dove i due protagonisti cioè i due componenti della famiglia si abbraccia non capisco perché già sarebbe molto più carina come foto di famiglia ecco però come vedete il gatto si abbraccia un altro tiro manco per nulla insomma dai questo è molto carino il gatto sembra un po' girato però direttamente nel senso che sembra che sia un po' solo su ecco se lo esiste per la stagione in cui giocare allora io direi primavera o facciamo autunno no primavera vai così adesso devo in sostanza devo scegliere dove andare a vivere qui è non ho mai scelto in realtà non ho scelto non ho scelto vedo no non sono mai andato a vivere qua che strano mi sembra strano però va bene ora questo è vicino anche al fiume quindi direi questo quindi facciamo trasferisci eccoci qua ok nella prossima magari iniziamo a costruire insieme e mentre ora la metto in pausa ok non iniziamo a fare cose e nella prossima magari iniziamo a costruire insieme che c'è anche molto questo pazio e niente in questo riesco a dirvi spero di riuscire a dirvi che ci vediamo in un prossimo video dove appunto costruiremo insieme e scopriremo anche magari un pochino com'è il gioco ma non credo credo che ci metterò molto a costruire in ogni caso spero che continuate a guardare questi video e che vi possano piacere datemi consigli nei commenti e niente fatemi sapere quando mi piace iscrivetevi insomma con le solite cose grazie mille ci vediamo in un prossimo video a presto grazie a tutti a presto grazie a tutti